La Fondazione Teatro Massimo e l'azienda ospedaliera e ospedali riuniti Villa Sofia Cervello hanno stipulato una convenzione per l'esecuzione di un programma di monitoraggio e controllo dell'eventuale diffusione del coronavirus tra i lavoratori del teatro. La campagna di monitoraggio vuole offrire a tutti i dipendenti le migliori garanzie per lavorare in condizioni di massima sicurezza. Sarà effettuato l'esame sierologico con prelievo venoso per la ricerca di anticorpi e in caso positivo anche il tampone faringeo. Il teatro deve confermarsi un luogo sicuro per il pubblico che assiste agli spettacoli e per tutti coloro che lavorano qui ogni giorno, afferma Francesco Giambrone, sovrintendente del teatro. La prevenzione e l'attenzione ai comportamenti individuali, il rispetto delle norme di distanziamento e l'igiene dei luoghi che condividiamo sono gli strumenti più efficaci per prevenire il contagio. Abbiamo profondamente modificato l'assetto del teatro e abbiamo reso possibile l'esecuzione di opere e concerti in sicurezza. Il supporto dell'azienda ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia Cervello e lo screening dei lavoratori sono un ulteriore passo per salvaguardare la sicurezza di tutti. L'esecuzione dei test sierologici si svolge nella sede della fondazione in piazza Ragonesi. Walter Messina, direttore dell'azienda ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia Cervello di Palermo, sottolinea, in un momento emergenziale come quello attuale in cui spicca la necessità di fare rete, questa sinergia permette all'ospedale di abbracciare, oltre alla tradizionale vocazione assistenziale di cura in chiave innovativa, anche i profili di prevenzione, supportando un ente di particolare rilievo culturale e di strategico valore per il territorio.